La Sacra Bibbia, il Nuovo Testamento, registrato dall'Alleanza Biblica, Stati Uniti d'America. Capitolo 1 Genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo di Abramo Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Ezrom, Ezrom generò Aram, Aram generò Abinadab, Abinadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boz da Rahab, Boz generò Obed da Ruth, Obed generò Iesse e Iesse generò David i re. E Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria, Salomone generò Roboano, Roboano generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Uzzia, Uzzia generò Iotam, Iotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazzaro, Eleazzaro generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo. Così, da Abramo fino a Davide sono in tutto quattordici generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia, quattordici generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, quattordici generazioni. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, tutto ciò avvenne affinché si adempiesse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta, e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretrato vuol dire il Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non la conobbe, finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù. Capitolo 2 Ora, essendo Gesù nato in Bethlehem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo, Dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente, e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli iscrivi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero, in Bethlehem di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Bethlehem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita. E mandandoli a Bethlehem, disse loro, Andate e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduto in oriente andava dinnanzi a loro, finché giunta al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza. Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono, ed aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via, tornarono al loro paese. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse, Levati, prendi il fanciullino e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta qui vi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire. Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre, e si ritirò in Egitto. E Ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempiesse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Fuori d'Egitto chiamai il mio figliuolo. Allora Erode, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente, e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Bethlehem e in tutto il suo territorio, dall'età di due anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi. Allora si adempie quello che fu detto per bocca del profeta Geremia. Un grido è stato dito in rama, un pianto ed un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa ad essere consolata perché non sono più. Ma dopo che Erode fu morto, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse, Levati, prendi il fanciullino e sua madre, e vattene nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano la vita del fanciullino. Ed egli, levatosi, prese il fanciullino e sua madre, ed entrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao invece di Erode, suo padre, temette di andare colà. Ed essendo stato divinamente avvertito in sogno, si ritirò nelle parti della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempiesse quello che era stato detto dai profeti che egli sarebbe chiamato Nazareno. Capitolo 3 Ora in quei giorni comparve Giovanni il Battista, predicando nel deserto della Giudea e dicendo, Ravvedetevi, perché il regno dei Cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Esaia quando disse, Beh, una voce di uno che grida nel deserto, Preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Ora esso Giovanni aveva il vestimento di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno ai fianchi, ed il suo cibo erano locuste e miele selvati. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui. Ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro, Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dire dentro di voi, Abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. E già l'ascure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio e arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose lascia fare per ora poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Capitolo 4 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo che ebbe digiunato quaranta giorni e quaranta notti alla fine ebbe fame e il tentatore accostatosi gli disse se tu sei figliuolo di Dio di che queste pietre divengano pani ma egli rispondendo diste sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse se tu sei figliuolo di Dio gettati giù poiché sta scritto egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti col piede contro una pietra Gesù gli disse e gli è altresì scritto non tentare il Signore il Dio tuo di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori allora Gesù gli disse va Satana poiché sta scritto adora il Signore il Dio tuo ed a Lui solo rendi il culto allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli vennero a Lui e lo servivano ora Gesù avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth venne ad abitare in Capernaum città sul mare ai confini di Zabulon e di Neftali affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Esaia il paese di Zabulon e il paese di Neftali sulla via del mare al di là del Giordano la Galilea dei Gentili il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte una luce s'è levata da quel tempo Gesù cominciò a predicare ed a dire ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino ora passeggiando lungo il mare della Galilea egli vide due fratelli Simone detto Pietro e Andrea suo fratello i quali gettavano le reti in mare perché erano pescatori e disse loro venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini ed essi lasciate prontamente le reti lo seguirono e passato più oltre vide due altri fratelli Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello i quali nella barca con Zebedeo loro padre rassettavano le reti e li chiamò ed essi lasciata subito la barca e il padre loro lo seguirono e Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoge e predicando l'Evangelo del Regno sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo e la sua fama si sparse per tutta la Siria e gli recavano tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori indemoniati lunatici paralitici ed egli li guarì e grandi folle lo seguirono dalla Galilea e dalla Decapoli e da Gerusalemme e dalla Giudea e da oltre il Giordano capitolo 5 e Gesù vedendo le folle salì sul monte e postosi a sedere i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli aperta la bocca li ammaestrava dicendo beati i poveri in ispirito perché di loro è il regno dei cieli beati quelli che fanno cordoglio perché essi saranno consolati beati i mansueti perché essi eroderanno la terra beati beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia perché essi saranno saziati beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta beati i puri di cuore perché essi vedranno il Dio beati quelli che s'adoperano alla pace perché essi saranno chiamati figlioli di Dio beati i perseguitati per cagione di giustizia perché di loro è il regno dei cieli beati voi quando vi oltrageranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagione mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi voi siete il sale della terra ora se il sale diviene insipido con che lo si salerà non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini voi siete la luce del mondo una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il padre vostro che è nei cieli non pensate che io sia venuto per abolire la legge o di profeti io sono venuto non per abolire ma per compire poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scrivi e dei farisei voi non entrerrete punto nel regno dei cieli voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale ma io vi dico chiunque si adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco se dunque tu stai per offerire la tua offerta sull'altare e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrir la tua offerta fa presto amichevolmente accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice ed il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino voi avete udito che fu detto non commettere all'ulterio ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso ad ulterio con lei nel suo cuore ora se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato cavalo e gettalo via da te perché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella genna e se la tua mano destra ti fa cadere in peccato mozzala e gettala via da te perché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella genna fu detto chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto del divorzio ma io vi dico chiunque manda via la moglie salvo che per cagione di fornicazione la fa essere adultera e chiunque sposa con lei che è mandata via commette adulterio avete udito pure che fu detto agli antichi non spergiurare ma tieni al signore i tuoi giuramenti ma io vi dico del tutto non giurate né per il cielo perché è il trono di dio né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi né per gerusalemme perché è la città del gran re non giurare neppure per il tuo capo perché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero ma sia il vostro parlare sì sì no no poiché il di più viene dal maligno voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente ma io vi dico non contrastate al malvagio anzi se uno ti percuote sulla guancia destra porgigli anche l'altra e a chi vuol litigare con te e toglierti la tunica lasciali anche il mantello e se uno ti vuol costringere a fare con sé un miglio fanne con lui due da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odea il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figlioli del padre vostro che è nei cieli poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti se infatti amate quelli che vi amano che premio ne avete non fanno anche i pubblicani lo stesso e se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli che fate di singolare non fanno anche i pagani altrettanto voi dunque siate perfetti come perfetto il padre vostro celeste capitolo 6 guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro altrimenti non ne avrete premio presso il padre vostro che è nei cieli quando dunque fai elemosina non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoge e nelle strade per essere onorati dagli uomini io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno ma quando tu fai elemosina non sappia alla tua sinistra quello che fa la destra affinché la tua elemosina si faccia in segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa e quando pregate non siate come gli ipocriti perché si amano di fare orazione stando in pie nelle sinagoge e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio fa l'orazione al padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa e nel pregare non usate soverchi e dicerie come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole non li rassomigliate dunque poiché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate voi dunque pregate così padre nostro che sei nei cieli ti ha santificato il tuo nome venga il tuo regno ti ha fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli il padre vostro celeste perdonerà anche a voi ma se voi non perdonate agli uomini neppure il padre vostro perdonerà i vostri falli e quando digiunate non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni ma al padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa non vi fate tesori sulla terra ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano ma fatevi tesori in cielo ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano perché dov'è il tuo tesoro qui vi sarà anche il tuo cuore la lampada del corpo è l'occhio se dunque l'occhio tuo è sano tutto il tuo corpo sarà illuminato ma se l'occhio tuo è viziato tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre se dunque la luce che è in te è tenebre esse tenebre quanto grandi saranno nessuno può servire a due padroni perché odierà l'uno ed amerà l'altro o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro voi non potete servire a dio ed a mammona perciò vi dico non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quello che mangerete o di quello che berrete né per il vostro corpo di che vi vestirete non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito guardate gli uccelli del cielo non seminano non mietano non raccolgono ingranai e il padre vostro celeste li nutrisce non siete voi assai più di loro e chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un cubito e intorno al vestire perché siete con ansietà solleciti considerate come crescono i gigli della campagna essi non faticano e non filano eppure io vi dico che nemmeno salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro ora se il dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno non vestirà egli molto più voi o gente di poca fede non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo che berremo o di che ci vestiremo perché sono i pagani che cercano tutte queste cose e il padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose ma cercate prima il regno e la giustizia di dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte non siate dunque con ansietà solleciti del domani perché il domani sarà sollecito di se stesso basta a ciascun giorno il suo affanno capitolo 7 non giudicate a ciò che non siate giudicati perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati e con la misura onde misurate sarà misurato a voi e perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo ovvero come potrai tu dire al tuo fratello lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo mentre ecco la trave è nell'occhio tuo ipocrita trai prima dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinnanzi ai porci che talora non le pestino coi piedi e rivolti contro di voi non vi sbranino chiedete e vi sarà dato cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia e qual è l'uomo fra voi il quale se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli quanto più il padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano ma tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano fatele anche voi a loro perché questa è la legge ed i profeti entrate per la porta stretta perché larga e la porta è spaziosa la via che mena la perdizione e molti sono quelli che entran per essa stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi investi da pecore ma dentro sono lupi rapaci voi li riconoscerete dai loro frutti si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli così ogni albero buono fa frutti buoni ma l'albero cattivo fa frutti cattivi un albero buono non può far frutti cattivi né un albero cattivo fare frutti buoni ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco voi li riconoscerete dunque dai loro frutti non chiunque mi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli molti mi diranno in quel giorno signore signore non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato dei moni e fatti in nome tuo molte opere potenti e allora dichiarerò loro io non vi conobbi mai dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia e la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia e chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sull'arena e la pioggia è venuta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro quella casa ed ella è caduta e la sua rovina è stata grande ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi discorsi le turbe stupivano del suo insegnamento perché egli le ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scrivi capitolo 8 ora quando egli fu sceso dal monte molte turbe lo seguirono ed ecco un lebroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo signore se tu vuoi tu puoi mondarmi e Gesù stesa la mano lo toccò dicendo lo voglio sii mondato e in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebra e Gesù gli disse guarda di non dirlo a nessuno ma va mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ciò serva loro di testimonianza ora quando egli fu entrato in Capernaum un centurione venne a lui pregandolo e dicendo signore il mio servitore giace in casa paralitico gravemente tormentato Gesù gli disse io verrò e lo guarirò ma il centurione rispondendo disse signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito poiché anch'io sono uomo sottoposto ad altri ed ho sotto di me dei soldati e dico a uno va ed egli va e ad un altro viene ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa e Gesù udendo questo ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanto fede e io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti e Gesù disse al centurione va e come hai creduto siati fatto e il servitore fu guarito in quell'ora stessa poi Gesù entrato nella casa di Pietro vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò e la si alzò e si mise a servirlo poi venuta la sera gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Esaia e gli stesso ha preso le nostre infermità ed ha portato le nostre malattie ora Gesù vedendo una grande folla intorno a sé comandò che si passasse all'altra riva allora uno scriba accostatosi gli disse maestro io ti seguirò dovunque tu vada e Gesù gli disse le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo ed un altro discepolo gli disse signore permettimi d'andare prima a seppellire mio padre ma Gesù gli disse seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti ed essendo egli entrato nella barca i suoi discepoli lo seguirono ed ecco farsi in mare una così grande burrasca che la barca era coperta dalle onde ma Gesù dormiva e i suoi discepoli accostatisi lo svegliarono dicendo signore salvaci siamo perduti ed egli disse loro perché avete paura o gente di poca fede allora levatosi sgridò i venti ed il mare e si fece grande bonaccia e quegli uomini ne restarono maravigliati e dicevano che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono e quando fu giunto all'altra riva nel paese dei gadareni gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri così furiosi che nessuno poteva passare per quella via ed ecco si misero a gridare che v'è fra noi e te figliuolo di Dio sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci ora lungi da loro vera un grande branco di porci che passevano e i demoni lo pregavano dicendo se tu ci scacci mandaci in quel branco di porci ed egli disse loro andate ed essi usciti se ne andarono nei porci ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nelle acque e quelli che li pasturavano fuggirono e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati ed ecco tutta la città uscì incontro a Gesù e come lo videro lo pregarono che si partisse dai loro confini capitolo 9 e Gesù entrato in una barca passò all'altra riva e venne nella sua città ed ecco li portarono un paralitico steso sopra un letto e Gesù veduta la fede loro disse al paralitico figliuolo sta di buon animo i tuoi peccati ti sono rimessi ed ecco alcuni degli scribi dissero dentro di sé costui vestemmia e Gesù conosciuti i loro pensieri disse perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori poiché che cosa è più facile dire i tuoi peccati ti sono rimessi o dire levati e cammina ora affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati levati disse al paralitico prendi il tuo letto e vattene a casa ed egli levatosi se ne andò a casa sua e le turbe veduto ciò furono prese da timore e glorificavano il dio che aveva data cotale autorità agli uomini poi Gesù partitosi di là passando vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse seguimi ed egli levatosi lo seguì ed avvenne che essendo Gesù a tavola in casa di Matteo ecco molti pubblicani e pecatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli e i farisei veduto ciò dicevano ai suoi discepoli perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi pecatori ma Gesù avendoli uditi disse non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati ora andate ed imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero perché noi ed i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano e Gesù disse loro gli amici dello sposo possono essi fare cordoglio finché lo sposo è con loro ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto ed allora digiuneranno ora nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito e lo strappo si fa peggiore neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi altrimenti gli otri si rompono il vino si spande e gli otri si perdono ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano mentre diceva loro queste cose ecco uno dei capi della sinagoga accostatosi sinchinò dinanzi a lui e gli disse la mia figliuola è pur ora trapassata ma vieni metti la mano su lei ed ella vivrà e gesù alzatosi lo seguiva con i suoi discepoli ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da dodici anni accostatasi per di dietro gli toccò il lembo della veste perché diceva fra sé solo che io tocchi la sua veste sarò guarita e gesù voltatosi e vedutala disse sa di buon animo figliuola la tua fede ta guarita e da quell'ora la donna fu guarita e quando gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga ed ebbe veduto i sonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito disse loro ritiratevi perché la fanciulla non è morta ma dorme e si ridevano di lui ma quando la moltitudine fu messa fuori egli entrò e prese la fanciulla per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese come gesù partiva di là due ciechi lo seguirono gridando e dicendo abbi pietà di noi o figliuolo di davide e quando egli fu entrato nella casa quei ciechi si accostarono a lui e gesù disse loro credete voi che io possa fare questo essi gli dissero sì o signore allora toccò loro gli occhi dicendo sia vi fatto secondo la vostra fede e gli occhi loro furono aperti e gesù fece loro un severo divieto dicendo guardate che nessuno lo sappia ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese ora come quei ciechi uscivano ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato e cacciato che fu il demonio il muto parlò e le turbe si meravigliarono dicendo mai non si è vista cosa tale in israele ma i farisei dicevano egli caccia i demoni per l'aiuto del principe dei demoni e gesù andava attorno per tutte le città e per i villaggi insegnando nelle loro sinagoge e predicando l'evangelo del regno e sanando ogni malattia ed ogni infermità e vedendo le turbe ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore allora egli disse ai suoi discepoli ben è la messe grande ma pochi sono gli operai pregate dunque il signore della messe che spinga degli operai nella sua messe capitolo 10 poi chiamati a sé i suoi dodici discepoli diede loro podestà di cacciare gli spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità ora i nomi dei dodici apostoli sono questi il primo simone detto pietro e andrea suo fratello giacomo di zebedeo e giovanni suo fratello filippo e bartolomeo toma e matteo il pubblicano giacomo giacomo dal feo e taddeo simone il cananeo e giuda l'iscariota quello stesso che poi lo tradì questi dodici mandò gesù dando loro queste istruzioni non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani ma andate piuttosto alle fecore perdute della casa di israele e andando predicate e dite il regno dei cieli è vicino sanate gli infermi risuscitate i morti mondate i lebrosi cacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date non fate provvisione né d'oro né d'argento né di rame nelle vostre cinture né di sacca da viaggio né di due tuniche né di calzari né di bastone perché l'operaio è degno del suo nutrimento ora in qualunque città o villaggio sarete entrate informatevi chi sia ivi degno e dimorate da lui finché partiate e quando entrerete nella casa salutatela e se quella casa sarà degna venga la pace vostra su lei se poi non è degna la vostra pace torni a voi e se alcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole uscendo da quella casa e da quella città cotete la polvere dai vostri piedi in verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe e guardatevi dagli uomini perché vi metteranno in man dei tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoge e sarete menati davanti a governatori e re per cagionmia per servir di testimonianza dinanzi a loro e dai gentili ma quando vi metteranno nelle loro mani non siate in ansietà del come parlerete o di quello che avrete da dire perché in quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete da dire poiché non siete voi che parlate ma è lo spirito del padre vostro che parla ora il fratello darà il fratello a morte e il padre il figliuolo e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato e quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figliuolo dell'uomo sia venuto un discepolo non è da più del maestro né un servo da più del suo signore basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo di essere come il suo signore se hanno chiamato Belzebub il padrone quanto più chiameranno così quelli di casa sua non li temete dunque poiché non ve niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto né di occulto che non abbia a venire a notizia quello che io vi dico nelle tenebre ditelo voi nella luce e quello che udite dettovi all'orecchio predicatelo sui tetti e non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima temete piuttosto colui che può far perive e l'anima e il corpo nella genna due passeri non si vendono essi per un soldo eppure non ne cade uno solo in terra senza del padre vostro ma quant'è a voi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati non temete dunque poi siete da più di molti passeri chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini anch'io riconoscerò lui davanti al padre mio che è nei cedi ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini anch'io rinnegherò lui davanti al padre mio che è nei cedi non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra non sono venuto a mettere pace ma spada perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me chi avrà trovato la vita sua la perderà e chi avrà perduto la sua vita per cagione mia la troverà chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto e chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli perché è mio discepolo io vi dico in verità che non perderà appunto il suo premio capitolo 11 e avvenne che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi dodici discepoli Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città ora Giovanni avendo nella prigione udito parlare delle opere di Cristo mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli sei tu colui che ad avvenire o ne aspetteremo noi un altro e Gesù rispondendo disse loro andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete i ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano i lebrosi sono mondati e i sordi odono i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri e beato colui che non si sarà scandalizzato di me ora come essi se ne andavano Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni che andaste a vedere nel deserto una canna dimenata dal vento ma che andaste a vedere un uomo avvolto in morbide vesti ecco quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re ma perché andaste per vedere un profeta si vi dico è uno più che profeta egli è colui del quale è scritto ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via dinanzi a te in verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui ora dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza ed i violenti se ne impadroniscono poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni e se lo volete accettare egli è l'Elia che doveva venire chi ha orecchi oda ma a chi assomiglierò io questa generazione e lei simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridono ai loro compagni e dicono vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono a un demonio è venuto il figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo e dicono ecco un mangiatore ed un beone ed un amico dei pubblicani e dei peccatori ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue allora egli presi a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute guai a te corazzin guai a te bezzaida perché se in tiro e sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere e però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra e tu o Capernaum sarai tu forse inalzata fino al cielo no tu scenderai fino nell'Hades perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te ella sarebbe durata fino ad oggi e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua in quel tempo Gesù prese a dire io ti rendo lode o padre signore del cielo e della terra perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli sì padre perché così ti è piaciuto ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno conosce appieno il figliuolo se non il padre e nessuno conosce appieno il padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo prendete su voi il mio gioco ed imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre poiché il mio gioco è dolce ed il mio carico è leggero capitolo 12 in quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellere delle spighe ed a mangiare e i farisei veduto ciò gli dissero ecco i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito di fare in giorno di sabato ma egli disse loro non avete voi letto quello che fece davide quando ebbe fame egli e coloro che erano con lui come egli entrò nella casa di dio e come mangiarono i pani di presentazione i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui ma i soli sacerdoti ovvero non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli ora 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 io vi dico che ve qui qualcosa di più grande del tempio e se sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio voi non avreste condannato gli innocenti perché il figliolo dell'uomo è signore del sabato e partitosi di là venne nella loro sinagoga ed ecco un uomo che aveva una mano secca ed essi affin di poterlo accusare fecero a Gesù questa domanda è egli lecito fare delle guarigioni in giorno di sabato ed egli disse loro chi è colui fra voi che avendo una pecora se la cade in giorno di sabato in una fossa non la prenda e la tragga fuori ora quant'è un uomo da più di una pecora è dunque lecito far del bene in giorno di sabato allora disse a quell'uomo tendi la tua mano e colui la stese ed ella tornò sana come l'altra ma i farisei usciti tennero consiglio contro di lui col fine di farlo morire ma Gesù saputolo si partì di là e molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro severamente di non farlo conoscere affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Esaia ecco il mio servitore che ho scelto il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta io metterò lo spirito mio sopra lui ed egli annunzierà giudicio alle genti non contenderà né griderà né alcuno trà la sua voce nelle piazze egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia e nel nome di lui le genti spereranno allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto ed egli lo sanò tal che in muto lo parlava e vedeva e tutte le turbe stupivano e dicevano non è costui il figliuolo di davide ma i farisei udendo ciò dissero costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di belzebub principe dei demoni e gesù conosciuti i loro pensieri disse loro ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere e se satana caccia satana egli è diviso contro se stesso come dunque potrà sussistere il suo regno e se io caccio i demoni per l'aiuto di belzebub per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli per questo essi stessi saranno i vostri giudici ma se è per l'aiuto dello spirito di dio che io caccio i demoni è dunque pervenuto fino a voi il regno di dio ovvero come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte allora soltanto gli prederà la casa chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde perciò io vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato ma a chiunque parli contro lo spirito santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello avvenire o voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto perché dal frutto si conosce l'albero razza di vipere come potete dire cose buone essendo malvagi poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla l'uomo dà bene dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli maestro noi vorremmo vederti operare un segno ma egli rispose loro questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona poiché come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti così starà il figliuolo dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti i niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona ed ecco qui vi è più che Giona la regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone ed ecco qui vi è più che Salomone ora quando lo spirito immondo è uscito da un uomo va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova allora dice ritornerò nella mia casa d'onde sono uscito e giuntovi la trova vuota spazzata e adorna allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui i quali entrati prendono quivi dimora e l'ultima condizione di codesto uomo diviene peggiore della prima così avverrà anche a questa malvagia generazione mentre Gesù parlava ancora le turbe ecco sua madre e i suoi fratelli che fermatisi di fuori cercavano di parlarli e uno gli disse ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava chi è mia madre e chi sono i miei fratelli e stendendo la mano sui suoi discepoli disse ecco mia madre e i miei fratelli poiché chiunque avrà fatta la volontà del padre mio che è nei cieli esso mie fratello e sorella e madre capitolo 13 in quel giorno Gesù uscito di casa si pose a sedere presso al mare e molte turbe si radunarono attorno a lui tal che egli montato in una barca vi sedette e tutta la moltitudine stava sulla riva ed egli insegnò loro molte cose in parabole dicendo ecco il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada gli uccelli vennero e la mangiarono un'altra cadde nei luoghi rocciosi ove non aveva molta terra e subito spunto perché non aveva terreno profondo ma levatosi il sole fu riarza e perché non aveva radice si seccò e un'altra cadde sulle spine e le spine crebbero e l'affogarono e un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando qual cento qual sessanta qual trenta per uno chi ha orecchi da udire oda allora i discepoli accostatisi gli dissero perché parli loro in parabole ed egli rispose loro perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli ma loro non è dato perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha perciò parlo loro in parabole perché vedendo non vedono e udendo non odono e non intendono e s'adempia in loro la profezia di Isaia che dice udrete coi vostri orecchi e non intenderete guarderete coi vostri occhi e non vedrete perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile sono divenuti duri d'orecchie e hanno chiuso gli occhi che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertano e io non li guarisca ma beati gli occhi vostri perché veggano e i vostri orecchi perché odono poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono di vedere le cose che voi vedete e non le videro e di udire le cose che voi udite e non le udirono voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada e quello che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza però non ha radice in sé ma è di corta durata e quando venga tribolazione o perseguzione a cagione della parola è subito scandalizzato e quello che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola poi le cure mondane l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa ma quello che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e la intende che porta del frutto e rende l'uno il cento l'altro il sessanta e l'altro il trenta egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò e quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto allora apparvero anche le zizzanie e i servitori del padrone di casa vennero a dirgli signore non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo come mai dunque c'è della zizzania ed egli disse loro un nemico ha fatto questo e i servitori gli dissero vuoi tu che l'andiamo a cogliere ma egli rispose no che talora cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle ma il grano raccoglietelo nel mio granaio egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile ad un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo esso è bene il più piccolo di tutti i semi ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami disse loro un'altra parabola il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende nasconde in tre staia di farina in che la pasta sia tutta lievitata tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe e senza parabola non diceva loro nulla affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta aprirò in parabole la mia bocca e sporrò cose occulte fino dalla fondazione del mondo allora Gesù lasciate le turbe tornò a casa e i suoi discepoli li s'accostarono dicendo piegaci la parabola delle zizzanie del campo ed egli rispondendo disse loro colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo il campo è il mondo la buona semenza sono i figliuoli del regno le zizzanie sono i figliuoli del maligno il nemico che le ha seminate è il diavolo la mietitura è la fine dell'età presente i mietitori sono angeli come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco così avverrà alla fine dell'età presente il figliuolo dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro chi ha orecchi oda il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per l'allegrezza che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran prezzo se ne è andato ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata il regno dei cieli è anche simile ad una rete che gettata in mare ha raccolto ogni sorta di pesci quando è piena i pescatori la traggono arriva e postisi a sedere raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla così avverrà alla fine dell'età presente verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti avete inteso tutte queste cose essi gli risposero sì allora disse loro per questo ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie ora quando Gesù ebbe finite queste parabole partì di là e recatosi nella sua patria li ammaestrava nella loro sinagoga tal che stupivano e dicevano onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti non è questi il figliuolo del falegname sua madre non si chiama ella maria e i suoi fratelli giacomo giuseppe simone e giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi donde dunque vengono a lui tutte queste cose essi scandalizzavano di lui ma Gesù disse loro un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua e non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità capitolo 14 in quel tempo erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori costui è Giovanni Battista egli è ressuscitato dai morti e però agiscono in lui le potenze miracolose perché erode fatto arrestare Giovanni lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di erodiada moglie di Filippo suo fratello perché Giovanni gli diceva non te è lecito di averla e benché desiderasse farlo morire temette il popolo che lo teneva per profeta ora come si celebrava il giorno natalizio di erode la figliuola di erodiada ballò nel convito e piacque ad erode onde gli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe ed ella spintavi da sua madre disse dammi qui non piatto la testa di Giovanni Battista e il re ne fu contristato ma a motivo del giuramento e dei commensali comandò che le fosse data e mandò a fare decapitare Giovanni nella prigione e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre e i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono poi vennero a darne la nuova a Gesù udito ciò Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto in disparte e le turbe saputolo lo seguirono a piedi dalle città e Gesù smontato dalla barca vide una grande moltitudine nebbe compassione e ne guarì gli infermi ora facendosi sera i suoi discepoli li s'accostarono e li dissero il luogo è deserto e l'ora è già passata licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare ma Gesù disse loro non hanno bisogno d'andarsene date loro voi da mangiare ed essi gli risposero non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci ed egli disse portatemeli qua e avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba prese dei cinque pani e i due pesci e levati gli occhi al cielo rese grazie poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe e tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati dodici ceste piene e quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini oltre le donne e i fanciuzzi subito dopo gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli licenzierebbe le turbe e licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare e fatto si sera era quivi tutto solo frattanto la barca già di molti stadi lontana da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario ma alla quarta vigilia della notte gesù andò verso loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarano e dissero è un fantasma e dalla paura gridarono ma subito gesù parlò loro e disse stateli buon animo sono io non temete e pietro gli rispose signore se sei tu comandami di venire a te sulle acque ed egli disse vieni e pietro smontato dalla barca camminò sulle acque e andò verso gesù ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando a sommergersi gridò signore salvami e gesù stesa subito la mano lo afferrò e gli disse o uomo di poca fede perché hai dubitato e quando furono montati nella barca il vento si acquetò allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo veramente tu sei il figliuolo di dio e passati all'altra riva vennero nel paese di gennezzaret e la gente di quel luogo avendolo riconosciuto mandò per tutto il paese all'intorno e li presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare non foss'altro che il lembo del suo vestito e tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti capitolo quindici allora s'accostarono a gesù dei farisei e degli scribi venuti da gerusalemme e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi perché non si lavano le mani quando prendono cibo ma egli rispose loro e voi perché trasgredite il comandamento di dio a motivo della vostra tradizione dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia punito di morte voi invece dite se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti è offerta a dio egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre e avete annullata la parola di dio a cagione della vostra tradizione ipocriti ben profetò isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il cuore loro è lontano da me ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini e chiamata a sé la moltitudine disse loro ascoltate e intendete non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo ma quello che esce dalla bocca ecco quello che contamina l'uomo allora i suoi discepoli accostatisi gli dissero sai tu che i farisei quando hanno udito questo discorso ne sono rimasti scandalizzati ed egli rispose loro ogni pianta che il padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata lasciatevi sono ciechi guide di ciechi ora se un cieco guida un altro cieco ambedue cadranno nella fossa Pietro allora prese a dirgli piegaci la parabola e Gesù disse siete anche voi tuttora privi di intendimento non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nella latrina ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo poiché dal cuore vengono pensieri malvagi omicidi adulteri fornicazioni furti false testimonianze diffamazioni queste sono le cose che contaminano l'uomo ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo e partitosi di là Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare abbi pietà di me signore figliuol di Davide la mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio ma egli non le rispose parola e i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro ma egli rispose io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo signore aiutami ma egli rispose non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini ma ella disse dici bene signore eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni allora Gesù le disse o donna grande è la tua fede ti sia fatto come vuoi e da quell'ora la sua figliuola fu guarita partitosi di là Gesù venne presso al mare di Galilea e salito sul monte si pose quivi a sedere e gli si accostarono molte turbe che avevano con sé degli zoppi dei ciechi dei muti degli storpi e molti altri malati li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì tal che la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano e che gli storpi erano guariti che gli zoppi camminavano che i ciechi vedevano e ne dette gloria all'indio di Israele e Gesù chiamati a sé i suoi discepoli disse io ho pietà di questa moltitudine poiché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare e non voglio rimandarli i digiuni che talora non vengano meno per via e i discepoli gli dissero donde potremmo avere in un luogo deserto tanti pani da saziare così gran folla e Gesù chiese loro quanti pani avete ed essi risposero sette e pochi pescetti allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra poi prese i sette pani ed i pesci e dopo avere rese grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle e tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati si levarono sette panieri pieni ora quelli che avevano mangiato erano quattromila persone senza contare le donne e i fanciulli e licenziate le turbe Gesù entrò nella barca e venne al paese di Magadan capitolo 16 ed accostatisi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo ma egli rispondendo disse loro quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo l'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non arrivate a discernerli questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona e lasciateli se li andò ora i discepoli passati all'altra riva si erano dimenticati di prendere dei pani e Gesù disse loro vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei ed essi ragionavano fra loro e dicevano egli è perché non abbiamo preso dei pani ma Gesù accortosene disse o gente di poca fede perché ragionate fra voi del non avere dei pani non capite ancora e non vi ricordate dei cinque pani dei cinquemila uomini e quante ceste nelle vaste né dei sette pani dei quattromila uomini e quanti panieri nelle vaste come mai non capite che non è di pani che io vi ho parlato ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei allora intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei poi Gesù venuto nelle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figliuol dell'uomo ed essi risposero gli uni dicono Giovanni Battista altri Elia altri Geremia o uno dei profeti ed egli disse loro e voi chi dite che io sia Simone Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo il figliuolo dell'iddio vivente e Gesù replicandoli disse tu sei beato o Simone figliuolo di Giona perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli e io altresì ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'ades non la potranno vincere io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani dai capi sacerdoti e dagli scrivi ed essere ucciso e resuscitare il terzo giorno e Pietro trattolo da parte cominciò a rimproverarlo dicendo tolga sciol Dio Signore questo non ti avverrà mai ma Gesù rivoltosi disse a Pietro vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini allora Gesù disse ai suoi discepoli se uno vuol venire dietro a me rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà e che gioverà egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua o che darà all'uomo in cambio dell'anima sua perché il figliuol dell'uomo verrà nella gloria del padre suo con i suoi angeli ed allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua in verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbian visto il figliuol dell'uomo venire nel suo regno capitolo 17 capitolo 17 sei giorni sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato dinanzi a loro la sua faccia risplendè come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce ed ecco apparvelo loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù Signore egli è bene che stiamo qui se vuoi farò qui tre tende una per te una per Mosè ed una per Elia mentre gli parlava ancora ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo e i discepoli udito ciò caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore ma Gesù accostatosi li toccò e disse levatevi e non temete ed essi alzati gli occhi non videro alcuno se non Gesù tutto solo poi mentre scendevano dal monte Gesù diede loro questo ordine non parlate di questa visione ad alcuno finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti e i discepoli gli domandarono perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia ed egli rispondendo disse loro certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa ma io vi dico Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto così anche il figliuolo dell'uomo ad appatire da loro allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva loro parlato e quando furono venuti alla moltitudine un uomo li s'accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo Signore abbi pietà del mio figliuolo perché è lunatico e soffre molto spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua l'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire e Gesù rispondendo disse o generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi fino a quando vi sopporterò menatemelo qua e Gesù sgridò l'indemoniato e il dimonio uscì da lui e da quell'ora il fanciullo fu guarito allora i discepoli accostatisi a Gesù in disparte gli chiesero perché non l'abbiamo potuto cacciare noi e Gesù rispose loro a cagione della vostra poca fede perché in verità io vi dico se avete fede quanto un granel di senapa potrete dire a questo monte passa di qui là e passerà e niente vi sarà impossibile ora questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno ora come essi percorrevano insieme la Galilea Gesù disse loro il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno e al terzo giorno risusciterà ed essi ne furono grandemente contristati e quando furono venuti a Capernaum quelli che riscotevano le didramme si accostarono a Pietro e dissero il vostro maestro non paga egli le didramme e gli rispose sì e quando fu entrato in casa Gesù lo prevenne e gli disse che te ne pare Simone i re della terra da chi prendono i tributi o il censo dai loro figliuoli o dagli stranieri dagli stranieri rispose Pietro Gesù gli disse i figliuoli dunque ne sono esenti ma per non scandalizzarli vattene al mare getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su e apertali la bocca troverai uno statere prendilo e dallo loro per me e per te capitolo 18 in quel mentre i discepoli si accostarono a Gesù dicendo chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli ed egli chiamato a sé un piccolo fanciullo lo pose in mezzo allora e disse in verità io vi dico se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli non entrerete punto nel regno dei cieli chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli e chiunque riceve un cotale piccolo fanciullo nel nome mio riceve me ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse sommerso nel fondo del mare guai al mondo per gli scandali poiché bene è necessario che avvengano degli scandali ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene ora della tua mano o del tuo piede ti è occasione di peccato mozzali e gettali via da te meglio è per te l'entrare nella vita monco o zoppo che l'avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno e se l'occhio tuo ti è occasione di peccato cavalo e gettalo via da te meglio è per te l'entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del padre mio che è nei cieli poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito che vi pare egli se un uomo ha cento pecore e una di queste si smarrisce non lascerà egli le novantanove sui monti per andare in cerca della smarrita e se gli riesce di ritrovarla in verità vi dico che egli si rallegra più di questa che delle novantanove che non si erano smarrite così è voler del padre vostro che è nei cieli che neppure un solo di questi piccoli perisca se poi il tuo fratello ha peccato contro di te va e riprendilo fra te e lui solo se t'ascolta avrai guadagnato il tuo fratello ma se non t'ascolta prendi teco ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni e se rifiuta ad ascoltarli dillo alla chiesa e se rifiuta di ascoltare anche la chiesa siati come il pagano e il pubblicano io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo ed anche in verità vi dico se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi quella sarà loro concessa dal padre mio che è nei cieli poiché dovunque due o tre sono radunati nel nome mio qui vi sono io nel mezzo a loro allora pietro accostatosi gli disse signore quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io fino a sette volte e gesù a lui io non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servitori e avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti e non avendo egli di che pagare il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figlioli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato onde il servitore gettatosi a terra gli si prostrò dinanzi dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò tutto e il signore di quel servitore mosso a compassione lo lasciò andare e gli rimise il debito ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari e afferrato lo strangolava dicendo paga quello che devi onde il conservo gettatosi a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò ma colui non volle anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito ora i suoi conservi veduto il fatto ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse malvagio servitore io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come ebbi anch'io pietà di te e il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva così vi farà anche il padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello capitolo 19 ora venne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea oltre il Giordano e molte turbe lo seguirono e quivi guarì i loro malati e dei farisei si accostarono a lui tentandolo e dicendo è egli lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie ed egli rispondendo disse loro non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne tal che non sono più due ma una sola carne quello dunque che il Dio ha congiunto l'uomo non lo separi essi gli dissero perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via Gesù disse loro fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli ma da principio non era così ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per cagione di fornicazioni e ne sposa un'altra commette adulterio i discepoli gli dissero se tale il caso dell'uomo rispetto alla donna non conviene di prendere moglie ma egli rispose loro non tutti sono capaci di praticare questa parola ma quelli soltanto ai quali è dato poiché vi sono degli eunuchi i quali sono nati così dal seno della madre vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cedi chi è in grado di farlo lo faccia allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse ma i discepoli sgridarono coloro che glieli presentavano gesù però disse lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me perché di tali è il regno dei cieli e imposte loro le mani si partì di là ed ecco un tale che gli s'accostò e gli disse maestro che farò io di buono per avere la vita eterna e gesù gli rispose perché mi interrogui tu intorno a ciò che è buono uno solo è il buono ma se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti quali gli chiese colui e gesù rispose questi non uccidere non commettere adulterio non rubare non dire falsa testimonianza onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso e il giovane a lui tutte queste cose le ho osservate che mi manca ancora gesù gli disse se vuoi essere perfetto va vendi ciò che hai e dallo ai poveri ed avrai un tesoro nei cieli e poi vieni e seguitami ma il giovane udita questa parola se ne andò contristato perché aveva di gran beni e gesù disse ai suoi discepoli io vi dico in verità che un ricco malacevolmente entrerà nel regno dei cieli e da capo vi dico è più facile a un cammello passare per la cruna ad un ago che ad un ricco entrare nel regno di dio i suoi discepoli udito questo sbigottirono forte e dicevano chi dunque può essere salvato e gesù riguardatoli fisso disse loro agli uomini questo è impossibile ma a dio ogni cosa è possibile allora pietro replicando gli disse ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguitato che ne avremo dunque e gesù disse loro io vi dico in verità che nella nuova creazione quando il figliuolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria anche voi che mi avete seguitato sederete su dodici troni a giudicare le dodici tribù di israele e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figliuoli o campi per amore del mio nome ne riceverà cento volte tanti ed erederà la vita eterna ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi capitolo 20 poiché il regno dei cieli è simile ad un padron di casa il quale in sul fare del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna e avendo convenuto coi lavoratori per un denaro al giorno li mandò nella sua vigna ed uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto ed essi andarono poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso ed uscito verso l'undicesima ne trovò degli altri in piazza e disse loro perché venne stati qui tutto il giorno inoperosi essi gli dissero perché nessuno ci ha presi a giornata e gli disse loro andate anche voi nella vigna poi fatto si sera il padrone della vigna disse al suo fattore chiama i lavoratori e paga loro la mercede cominciando dagli ultimi fino ai primi allora venuti quei dell'undicesima ora ricevettero un denaro per uno e venuti i primi pensavano di ricevere di più ma ricevettero anch'essi un denaro per uno e ricevutolo mormoravano contro al padrone di casa dicendo questi ultimi non hanno fatto che un'ora e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo ma egli rispondendo ad uno di loro disse amico io non ti fu alcun torto non convenisti meco per un denaro prendi il tuo e vattene ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te non me lecito fare del mio ciò che voglio o vedi tu di malocchio che io sia buono così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi poi Gesù stando per salire a Gerusalemme trasse da parte i suoi dodici discepoli e cammin facendo disse loro ecco noi saliamo a Gerusalemme e il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scrivi ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso ma il terzo giorno risusciterà allora la madre dei figliuoli di Zebedeo s'accostò a lui coi suoi figliuoli prostrandosi e chiedendogli qualche cosa ed egli le domandò che vuoi e la gli disse ordina che questi miei due figliuoli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno e Gesù rispondendo disse voi non sapete quello che chiedete potete voi bere il calice che io sto per bere essi gli dissero sì lo possiamo egli disse loro voi certo berrete il mio calice ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra non sta a me il darlo ma è per quelli a cui è stato preparato dal padre mio e i dieci udito ciò furono indignati contro i due fratelli ma Gesù chiamateli a sé disse voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano podestà sopra di esse ma non è così tra voi anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore appunto come il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti e come uscivano da gerico una grande moltitudine lo seguì ed ecco che due ciechi seduti presso la strada avendo udito che gesù passava si misero a gridare abbi pietà di noi signore figliuol di davide ma la moltitudine li sgridava perché tacessero essi però gridavano più forte abbi pietà di noi signore figliuol di davide e gesù fermatosi li chiamò e disse che volete che io vi faccia ed essi signore che si aprano gli occhi nostri allora gesù mosso a pietà toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono capitolo ventuno e quando furono vicini a gerusalemme e furono giunti a beffage presso al monte degli olivi gesù mandò due discepoli dicendo loro andate nella borgata che è di rimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa scioglieteli e menatemeli e se alcuno vi dice qualcosa direte che il signore ne ha bisogno e subito li manderà or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta dite alla figliuola di Sion ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina e i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato menarono l'asina e il puledro vi posero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere e la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano osanna al figliuolo di Davide benedetto colui che viene nel nome del Signore osanna nei luoghi altissimi ed essendo egli entrato in Gerusalemme tutta la città fu commossa e si diceva chi è costui e le turbe dicevano questi è Gesù il profeta che è da Nazareth di Galilea e Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vi vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi e disse loro e gli è scritto la mia casa sarà chiamata casa di orazione ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò ma i capi sacerdoti e gli iscrivi vedute le meraviglie che aveva fatte e i fanciulli che gridavano nel tempio osanna al figliuolo di Davide ne furono indignati e gli dissero odi tu quello che dicono costoro e Gesù disse loro sì non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti ai tratto lode e lasciateli se ne andò fuori della città a Betania dove albergò e la mattina tornando in città ebbe fame e vedendo un fico sulla strada gli si accostò ma non vi trovò altro che delle foglie e gli disse mai più in eterno non nasca frutto da te e subito il fico si seccò e i discepoli veduto ciò si meravigliarono dicendo come sei in un attimo seccato il fico e Gesù rispondendo disse loro io vi dico in verità se aveste fede e non dubitaste non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico ma se anche diceste a questo monte togliti di là e gettati nel mare sarebbe fatto e tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete e quando fu venuto nel tempio i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre gli insegnava e gli dissero con quale autorità fai tu queste cose e chi t'ha data codesta autorità e Gesù rispondendo disse loro anch'io vi domanderò una cosa e se voi mi risponderete anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose il battesimo di Giovanni donde veniva dal cielo o dagli uomini ed essi ragionavano fra loro dicendo se diciamo dal cielo egli ci dirà perché dunque non gli credeste e se diciamo dagli uomini temiamo la moltitudine perché tutti tengono Giovanni per profeta risposero dunque a Gesù dicendo non lo sappiamo e anch'io gli disse loro e neppure io vi dirò con quale autorità io fo queste cose ora che vi pare egli un uomo aveva due figliuoli accostatosi al primo disse figliuolo va oggi a lavorare nella vigna ed egli rispondendo disse vado signore ma non vi andò e accostatosi al secondo gli disse lo stesso ma egli rispondendo disse non voglio ma poi pentitosi vi andò quale dei due fece la volontà del padre essi gli dissero l'ultimo e Gesù a loro io vi dico in verità i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non li avete creduto ma i pubblicani e le meretrici li hanno creduto e voi che avete veduto questo neppure poi vi siete pentiti per credere a lui udite un'altra parabola vi era un padrone di casa il quale piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremere l'uva e vi edificò una torre poi l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio ora quando fu vicina la stagione dei frutti mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna ma i lavoratori presi i servitori uno ne batterono uno ne uccisero e un altro ne lapidarono da capo mandò degli altri servitori maggior numero dei primi e coloro li trattarono nello stesso modo finalmente mandò loro il suo figliuolo dicendo avranno rispetto al mio figliuolo ma i lavoratori veduto il figlio dissero fra di loro costui e l'erede venite uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità e presero lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero quando dunque sarà venuto il padrone della vigna che farà egli a quei lavoratori essi gli risposero li farà perire malamente codesti scellerati e allogherà la vigna ad altri lavoratori i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo Gesù disse loro non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti e chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed ella tritonerà colui sul quale cadrà e i capi i sacerdoti e i farisei udite le sue parabole si avvidero che parlava di loro e cercavano di perliarlo ma temettero le turbe che lo ritenevano per profeta capitolo 22 e Gesù prese di nuovo a parlare loro in parabole dicendo il regno dei cieli è simile ad un re il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze ma questi non vollero venire di nuovo mandò degli altri servitori dicendo dite agli invitati ecco io ho preparato il mio pranzo e i miei vuoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto venite alle nozze ma quelli non curandosene se ne andarono chi al suo campo chi al suo traffico gli altri poi presi i suoi servitori li oltraggiarono e li uccisero allora il re sadirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e ad ardere la loro città quindi disse ai suoi servitori le nozze si sono pronte ma gli invitati non ne erano degni andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete e quei servitori usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze fu ripiena di commensali ora il re entrato per vedere quelli che erano a tavola notò qui un uomo che non vestiva l'abito di nozze e gli disse amico come sei entrato qua senza avere un abito da nozze e colui ebbe la bocca chiusa allora il re disse ai servitori legatolo mani e piedi e gettatolo nelle tenebre di fuori ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti poiché molti sono chiamati ma pochi eletti allora i farisei ritiratisi tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole e gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli maestro noi sappiamo che sei verace e insegni la via di dio secondo la verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone dici dunque che te ne pare egli lecito pagare il tributo a cesare o no ma gesù conosciuta la loro malizia disse perché mi tentate ipocriti mostratemi la moneta del tributo ed essi gli porsero un denaro ed egli domandò loro di chi è questa effigie e questa iscrizione gli rispossero di cesare allora egli disse loro rendete dunque a cesare quello che è di cesare e a dio quello che è di dio ed essi udito ciò si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono in quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei i quali dicono che non vè resurrezione e gli domandarono maestro Mosè ha detto se uno muore senza figliuoli il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello ora verano fra di noi sette fratelli e il primo ammogliatosi morì e non avendo prole lasciò sua moglie al suo fratello lo stesso fece pure il secondo poi il terzo fino al settimo infine dopo tutti morì anche la donna alla resurrezione dunque di quale dei sette sarà ella moglie poiché tutti l'hanno avuta ma Gesù rispondendo disse loro voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie ma i risorti sono come angeli nei cieli quanto poi alla risurrezione dei morti non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse io sono l'iddio di Abramo l'iddio di Isacco l'iddio di Giacobbe egli non è l'iddio dei morti ma dei viventi e le turbe udite queste cose stupivano della sua dottrina ora i farisei udito che egli aveva chiusa la bocca ai sadducei si radunarono insieme e uno di loro dottore della legge gli domandò per metterlo alla prova maestro qual è nella legge il grande comandamento e Gesù gli disse ama il Signore e Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua questo è il grande e il primo comandamento il secondo simile ad esso è ama il tuo prossimo come te stesso da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti ora essendo i farisei radunati Gesù li interrogò dicendo che vi pare egli del Cristo di chi è egli figliuolo essi gli risposero di Davide ed egli a loro come dunque Davide parlando per lo spirito lo chiama Signore dicendo il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi se dunque Davide lo chiama Signore come egli suo figliuolo e nessuno poteva replicargli parola e da quel giorno nessuno ardi più interrogarlo capitolo ventitré allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno ma non fate secondo le opere loro perché dicono e non fanno difatti legano dei pesi gravi e li mettano sulle spalle della gente ma loro non li vogliono muovere neppure col dito tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoge e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente maestro ma voi non vi fate chiamare maestro perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre perché uno solo è il padre vostro quello che è nei cieli e non vi fate chiamare guide perché una sola è la vostra guida il Cristo ma il maggiore fra voi sia vostro servitore chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato ma guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente poiché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni perciò riceverete maggiore condanna guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliuolo della genna il doppio di voi guai a voi guide cieche che dite se uno giura per il tempio non è nulla ma se giura per loro del tempio resta obbligato tolti e ciechi poiché qual è maggiore loro o il tempio che santifica loro e se uno voi dite giura per l'altare non è nulla ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato ciechi poiché quale è maggiore l'offerta o l'altare che santifica l'offerta chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quello che c'è sopra e chi giura per il tempio giura per esso e per colui che lo abita e chi giura per il cielo giura per il trono di dio e per colui che vi siede sopra guai a voi scribi e farisei ipocriti perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del cumino e trascurate le cose più gravi della legge il giudizio e la misericordia e la fede queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello guai a voi scribi e farisei ipocriti perché nettate il di fuori del calice e del piatto mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza fariseo cieco netta prima il di dentro del calice e del piatto affinché anche il di fuori diventi netto guai a voi scribi e farisei ipocriti perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia così anche voi di fuori apparite giusti alla gente ma dentro siete pieni di ipogrisia e di iniquità guai a voi scribi e farisei ipocriti perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate e adornate le tombe dei giusti e dite se fossimo stati ai di dei nostri padri non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti tal che voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti e voi colmate pure la misura dei vostri padri serpenti razza di vipere come scamperete al giudizio della genna perciò ecco io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce altri ne flagellerete nelle vostre sinagoge e li perseguiterete di città in città affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria figliolo di Barachia che voi uccideste fra il tempio e l'altare io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione Gerusalemme Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore capitolo 24 e come gesù usciva dal tempio e se n'andava i suoi discepoli li s'accostarono per farli osservare gli edifici del tempio ma egli rispose loro le vedete tutte queste cose io vi dico in verità non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata e stando egli seduto sul monte degli olivi i discepoli li s'accostarono in disparte dicendo dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente e Gesù rispondendo disse loro guardate che nessuno vi seduca perché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il cristo e ne sedurranno molti ora voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre guardate di non turbarvi perché bisogna che questo avvenga ma non sarà ancora la fine poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi ma tutto questo non sarà che principio di dolori allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome e allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti e perché l'iniquità sarà moltiplicata la carità dei più si raffredderà ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato e questo evangelio del regno sarà predicato per tutto il mondo onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo legge ponga di mente allora quelli che saranno nella giudea fuggano ai monti chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste ora guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni e pregate che la vostra fuga non avvenga di inverno né di sabato perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non vestata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà e se quei giorni non fossero stati abbreviati nessuno scamperebbe ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati allora se alcuno vi dice il cristo eccolo qui eccolo là non lo credete perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti ecco ve l'ho predetto se dunque vi dicono eccolo e nel deserto non vandate eccolo e nelle stanze interne non lo credete perché come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo dovunque sarà il carname qui vi si raduneranno le aquile e subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate e allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con grande potenza e gloria e manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli ora imparate dal fico questa similitudine quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie voi sapete che l'estate è vicina così anche voi quando vedrete tutte queste cose sappiate che egli è vicino proprio alle porte io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli dei cieli neppure il figliuolo ma il padre solo e come fu ai giorni di Noè così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva si prendeva moglie e s'andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo allora due saranno nel campo l'uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno al mulino l'una sarà presa e l'altra lasciata vegliate dunque perché non sapete in qual giorno il vostro signore sia per venire ma sappiate questo che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà quale mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per da loro il vitto a suo tempo beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi ed a mangiare e bere con gli ubriacon il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti capitolo 25 allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo ora cinque di esse erano stolte e cinque avvedute le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio mentre le avvedute insieme con le lampade avevano preso dell'olio nei vasi ora tardando lo sposo tutte divennero sonacchiose e si addormentarono e sulla mezzanotte si levò un grido ecco lo sposo uscite l'incontro allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade e le stolte dissero alle avvedute dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono ma le avvedute risposero no che talora non basti per noi e per voi andate piuttosto dai venditori e compratevene ma mentre quelle andavano a comprarne arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso all'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo signore signore aprici ma egli rispondendo disse io vi dico in verità non vi conosco svegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora poiché avverrà come di un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni e all'uno diede cinque talenti a un altro due e a un altro uno a ciascuno secondo la sua capacità e partì subito colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque parimenti quello dei due ne guadagnò altri due ma colui che ne aveva ricevuto uno andò e fatta una buca in terra vi nascose il denaro del suo padrone ora dopo molto tempo ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro e colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti dicendo signore tu mi affidasti cinque talenti ecco ne ho guadagnati altri cinque e il suo padrone gli disse va bene buono e fedel servitore se stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del tuo signore poi presentatosi anche quello dei due talenti disse signore tu mi affidasti due talenti ecco ne ho guadagnati altri due il suo padrone gli disse va bene buono e fedel servitore se stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del tuo signore poi accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo disse signore io sapevo che tu sei uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccoldi dove non hai sparso ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sotto terra eccoti il tuo e il suo padrone rispondendogli disse servo malvagio ed infingardo tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso dove vi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e quel servitore disutile gettatelo nelle tenebre di fuori ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti ora quando il figliuolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria avendo seco tutti gli angeli allora sederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate dinnanzi a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra allora il re dirà a quelli della sua destra venite voi i benedetti del padre mio e redate il regno che ve stato preparato sino dalla fondazione del mondo perché ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi deste da bere fui forestiere e m'accoglieste fui nudo e mi rivestiste fui infermo e mi visitaste fui in prigione e veniste a trovarmi allora i giusti gli risponderanno signore quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare o avere sete e ti abbiamo dato da bere quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto o in nudo e ti abbiamo rivestito quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti e il re rispondendo dirà loro in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me allora dirà anche a coloro della sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli perché ebbi fame e non mi deste da mangiare ebbi sete e non mi deste da bere fui forestiere e non m'accoglieste ignudo e non mi rivestiste infermo ed in prigione e non mi visitaste allora anche questi gli risponderanno dicendo signore quando ti abbiamo veduto avere fame o sete o essere forestiere o ignudo o infermo o in prigione e non t'abbiamo assistito allora risponderà loro dicendo in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi non l'avete fatto neppure a me e questi se ne andranno a punizione eterna ma i giusti a vita eterna capitolo 26 ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti disse ai suoi discepoli voi sapete che fra due giorni è la pasqua e il figliuol dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisto allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote detto caiafa e deliberarono nel loro consiglio di pigliare Gesù con inganno e di farlo morire ma dicevano non durante la festa perché non accada tumulto nel popolo ora essendo Gesù in betania in casa di simone il lebroso venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di grande prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola veduto ciò i discepoli furono indignati e dissero a che questa perdita perché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri ma Gesù accortosene disse loro perché date noi a questa donna e l'ha fatto un'azione buona verso di me poiché i poveri li avete sempre con voi ma me non mi avete sempre poiché costei versando quest'olio sul mio corpo l'ha fatto in vista della mia sepoltura in verità vi dico che per tutto il mondo dovunque sarà predicato questo evangelo anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei allora uno dei dodici detto giuda Iscariot andò dai capi sacerdoti e disse loro che mi volete dare io ve lo consegnerò ed essi gli contarono trenta sicli d'argento e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo ora il primo giorno degli azimi i discepoli si accostarono a gesù e gli dissero dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la pasqua ed egli disse andate in città dal tale e ditegli il maestro dice il mio tempo è vicino farò la pasqua da te coi miei discepoli e i discepoli fecero come gesù aveva loro ordinato e prepararono la pasqua e quando fu sera si mise a tavola coi dodici discepoli e mentre mangiavano disse in verità io vi dico uno di voi mi tradirà ed essi grandemente attristati cominciarono a dirgli ad uno ad uno sono io quello signore ma egli rispondendo disse colui che ha messo con me la mano nel piatto quello mi tradirà certo il figliolo dell'uomo se ne va come scritto di lui ma guai a quell'uomo per cui il figliolo dell'uomo è tradito meglio sarebbe per codestuomo se non fosse mai nato e giuda che lo tradiva prese a dire sono io quello maestro e Gesù a lui lo hai detto ora mentre mangiavano Gesù prese del pane e fatta la benedizione lo ruppe e dandola ai suoi discepoli disse prendete mangiate questo è il mio corpo poi preso un calice e rese grazie lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati io vi dico che d'ora in poi non berrò più questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del padre mio e dopo che ebbero cantato l'inno uscirono per andare al monte degli ulivi allora gesù disse loro questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta perché scritto io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in galilea ma pietro rispondendo gli disse quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta non lo sarai mai per me gesù gli disse in verità ti dico che questa stessa notte prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte e pietro a lui quando anche mi convenisse morire con te non però ti rinnegherò e lo stesso dissero pure tutti i discepoli allora gesù venne con loro in un podere detto gezzemani e disse ai discepoli sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato e presi con sé pietro e i due figlioli di zebedeo cominciò ad essere contristato ed angosciato allora disse loro l'anima mia è oppressa da tristezza mortale rimanete qui e vegliate con me e andato un poco innanzi si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo padre mio se è possibile passi oltre da me questo calice ma pure non come voglio io ma come vuoi tu poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a pietro così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione bene lo spirito pronto ma la carne è debole di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo padre mio se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva sia fatta la tua volontà e tornato li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati e lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole poi venne ai discepoli e disse loro dormite pure ormai e riposatevi ecco l'ora è giunta e il figliolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori levatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino e mentre parlava ancora ecco arrivare giuda uno dei dodici e con lui una grande turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo ora colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo quello che bacerò è lui pigliatelo e in quell'istante accostatosi a gesù gli disse ti saluto maestro e gli dette un lungo bacio ma gesù gli disse amico affare che sei tu qui allora accostatisi gli misero le mani addosso e lo presero ed ecco uno di coloro che erano con lui stesa la mano alla spada la sfoderò e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio allora gesù gli disse riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada credi tu forse che io non potrei pregare manderebbe in questo istante più di dodici legioni d'angeli come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga in quel punto gesù disse alle turbe voi siete usciti con spade e bastoni come contro ad un ladrone per pigliarmi ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non m'avete preso ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti allora tutti i discepoli lasciatolo se ne fuggirono ora quelli che avevano preso Gesù lomenarono a caiafa sommo sacerdote presso il quale erano radunati gli scribi e gli anziani e Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero alla corte del sommo sacerdote ed entrato dentro si pose a sedere con le guardie per vedere la fine ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni finalmente se ne fecero avanti due che dissero costui ha detto io posso disfare il tempio di dio e riedificarlo in tre giorni e il sommo sacerdote levato si in piedi gli disse non rispondi tu nulla che testimoniano costoro contro a te ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse ti scongiuro per l'idio vivente a dirci se tu sei il cristo il figliuolo di dio Gesù gli rispose tu l'hai detto anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole dal cielo allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo egli ha bestemmiato che bisogno abbiamo più di testimoni ecco ora avete udito la sua bestemmia che ve ne pare ed essi rispondendo dissero erreo di morte allora disputarono in viso e gli dedero dei pugni ed altri lo schiaffeggiarono dicendo o cristo profeta indofinaci chi ta per percoso pietro intanto stava seduto fuori nella corte e una serva gli sacco sto dicendo anche tu eri con gesù il galileo ma egli lo negò davanti a tutti dicendo non so quello che tu dica e come fu uscito fuori nell'antiporto un'altra lo vide e disse a coloro che erano qui anche costui era con gesù nazareno ed egli da capo lo negò giurando non conosco quell'uomo di lì a poco gli astanti accostatisi dissero a pietro per certo tu pure sei di quelli perché anche la tua parlata ti dà a conoscere allora egli cominciò ad imprecare ed a giurare non conosco quell'uomo e in quell' istante il gallo cantò e pietro si ricordò della parola di gesù che gli aveva detto prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte e uscito fuori pianse amaramente capitolo 27 poi venuta la mattina tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a gesù per farlo morire e legatolo lo menarono via e lo consegnarono a pilato il governatore allora giuda che l'aveva tradito vedendo che gesù era stato condannato si pentì e riportò i trenta sicri d'argento ai capi sacerdoti e dagli anziani dicendo ho peccato tradendo il sangue innocente ma essi dissero che ci importa pensaci tu ed è lì lanciati i sicli nel tempio s'allontano e andò ad impiccarsi ma i capi sacerdoti presi quei sicli dissero non è lecito metterli nel tesoro delle offerte perché sono prezzo di sangue e tenuto consiglio comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servire di sepoltura ai forestieri perciò quel campo fino al dì d'oggi è stato chiamato campo di sangue allora sadempì quel che fu detto dal profeta Geremia e presero i trenta sicli d'argento prezzo di colui che era stato messo a prezzo messo a prezzo dai figlioli di israele e li dettero per il campo del vasaio come me l'aveva ordinato il signore ora Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo sei tu il re dei giudei e Gesù gli disse sì lo sono e accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla allora Pilato gli disse non ho di tu quante cose testimoniano contro di te ma egli non gli rispose neppure una parola tal che il governatore se ne meravigliava grandemente ora ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato qualunque ella volesse avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba essendo dunque radunati Pilato domando a loro chi volete che vi liberi Barabba o Gesù detto il Cristo poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia ora mentre egli sedeva in tribunale la moglie gli mandò a dire non avere nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagione di lui ma i capi sacerdoti gli anziani persuasero Barabba e far perire Gesù e il governatore prese a dire loro quale dei due volete che vi liberi e quelli risposero Barabba e Pilato a loro che farò dunque di Gesù detto il Cristo tutti risposero sia crocifisso ma pure riprese egli che male ha fatto ma quelli vi più gridavano sia crocifisso e Pilato vedendo che non riusciva a nulla ma che si sollevava un tumulto prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto pensateci voi e tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli allora egli liberò loro barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso allora i soldati del governatore tratto Gesù nel pretorio radunarono intorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella mano destra e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei e sputatoli addosso presero la canna e gli percotevano il capo e dopo averlo scernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti poi lo menarono via per crocifiggerlo ora nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù e venuti ad un luogo detto Golgota che vuol dire luogo del teschio gli dettero a bere del vino mescolato con fiele ma Gesù assaggiatolo non volle berne poi dopo averlo crocifisso partirono i suoi vestimenti tirando a sorte e postisi a sedere li facevano qui vi la guardia e al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna questo è Gesù il re dei iudei allora furono con lui crocifissi due ladroni una destra e l'altro a sinistra e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scotendo il capo e dicendo tu che disfai il tempio e entro giorni lo riedifichi salva te stesso se tu sei figliuolo di dio e scendi giù di croce similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani beffandosi dicevano ha salvato altri e non può salvare se stesso da che è il re di israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui se confidato in dio lo liberi ora se egli lo gradisce perché ha detto son figliuolo di dio e nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui ora dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona e verso l'ora nona gesù gridò con gran voce e li e li la ma sabattani cioè dio mio dio mio perché mi hai abbandonato ma alcuni degli astanti udito ciò dicevano costui chiama elia e subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppatela ad aceto e postala in cima ad una canna gli diede da bere ma gli altri dicevano lascia vediamo se elia viene a salvarlo e gesù avendo di nuovo gridato con grande voce rende lo spirito ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo e la terra tremò e le rocce si schiantarono e le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui entrarono nella santa città ed apparvero a molti e il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù visto il terremoto e le cose avvenute temettero grandemente dicendo veramente costui era figliuolo di dio ora qui vi erano molte donne che guardavano da lontano le quali avevano seguitato Gesù dalla galidea per assisterlo tra le quali erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Giosè e la madre dei figlioli di Zebedeo poi fattosi sera venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe il quale era divenuto anche gli discepolo di Gesù questi presentatosi a Pilato chiese il corpo di Gesù allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato e Giuseppe preso il corpo lo involse in un pannolino netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia e dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò ora Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro e l'indomani che era il giorno successivo alla preparazione i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo signore ci siamo ricordati che quel seduttore mentre viveva ancora disse dopo tre giorni risusciterò ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo è risuscitato dai morti così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo Pilato disse loro avete una guardia andate assicuratevi come credete ed essi andarono ad assicurare il sepolcro sigillando la pietra e mettendovi la guardia capitolo ventotto ora nella notte del sabato quando già albeggiava il primo giorno della settimana maria maddalena e l'altra maria vennero a visitare il sepolcro ed ecco si fece un grande terremoto perché un angelo del signore sceso dal cielo si accostò rotò la pietra e vi sedette sopra il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve e per lo spavento che ne ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte ma l'angelo prese a dire alle donne voi non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso egli non è qui poiché è risuscitato come aveva detto venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in galilea qui vi lo vedrete ecco ve l'ho detto e quelle andatesene prestamente dal sepolcro con spavento e dalle grezza grande corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo vi saluto ed esse accostatesi gli strinsero i piedi e lo adorarono allora Gesù disse loro non temete andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in galilea la mi vedranno ora mentre quelle andavano ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute ed essi radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio dettero una forte somma di denaro ai soldati dicendo dite così i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo e semmai questo viene alle orecchie del governatore noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori di pena ed essi preso il denaro fecero secondo le istruzioni ricevute e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al dì d'oggi quanto agli undici discepoli essi andarono in galilea sul monte che gesù aveva loro designato e vedutolo lo adorarono alcuni però dubitarono e gesù accostatosi parlò loro dicendo ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate dunque ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre e del figliuolo e dello spirito santo insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vo comandate ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente